Lo stato di salute delle fontane sorgive del Monte Orto Bene a Nuoro saranno monitorate per due anni per verificare la qualità delle acque in relazione all'impatto che la presenza dell'uomo può determinare. Lo studio verrà eseguito da Salvatore Frau, che ha conseguito la laurea trinale nella Facoltà di Scienze Ambientali di Nuoro e che sulla qualità delle acque del monte realizzerà la sua tesi di laurea specialistica in gestione dell'ambiente e del territorio. Per il suo lavoro, Salvatore Frau riceverà il supporto dell'Università di Sassari e dalla sede gemmata di Nuoro. L'iniziativa, che consentirà di avere un quadro aggiornato e completo sulla qualità delle acque del Monte Orto Bene, è stata presentata stamattina nel corso di una conferenza stampa ospitata nella Sala Giunta del Comune di Nuoro. Questo perché l'amministrazione, di concerto con la Commissione Consigliare Ambiente, intende dare corso nel 2013 alle azioni di governance sul monte, previste dalla mozione approvata dall'Assemblea ad aprile. Lo studio della salute delle acque rientra nella iniziativa e volte a valorizzare l'Orto Bene. All'incontro sono intervenuti il sindaco di Nuoro Sandro Bianchi, il vice sindaco Leonardo Moro, il presidente della Commissione Consigliare Ambiente Francesco Murgia, i docenti universitari Sergio Vacca e Chiara Rosnati e Salvatore Frau. Lo studio si concentrerà su sei fontane, quelle più vicine alle strade e comunque quelle più frequentate dai noresi, Farca, Nasolotti, Miliano, Barbore, Sailode e Sararichina. L'obiettivo è quello di analizzarne la qualità per un tempo abbastanza lungo per avere dati significativi e valutare l'impatto antropico col cambiare delle stagioni. Questo al fine di prendere provvedimenti correttivi. Il professor Vacca nel presentare il lavoro di Frau ha ricordato la grande collaborazione tra l'amministrazione comunale e l'università che potrà toccare i nuovi livelli quando sarà operativo il campus nell'ex artiglieria che consentirà di attrarre studenti da tutto il Mediterraneo. In questo senso l'apertura della scuola forestale darà un ulteriore impulso all'Ateneo. Il sindaco Bianchi si è detto orgoglioso di presentare nella sala giunta una tesi laurea sul monte e ha ricordato che l'amministrazione sull'ortobene ha istituito una cabina di regia che nel corso dell'anno dovrà implementare una serie di interventi. Questi riguarderanno l'area della statua, l'anello, le strutture sportive di Farca e Seda Ortai. Lo studio delle acque si inserisce in questo programma e consentirà di avere dati scientifici sulla qualità delle sorgenti.